buongiorno e benvenuti nell'anteprima di un nuovo webinar dedicato all'analisi volumetrica i climax visti con i volumi e con il prezzo e questo è il titolo della puntata di oggi sono agas corupinska barberini seguirò insieme a voi questa interessantissima puntata per gestire tutte le vostre domande e le richieste che vorrete inviarmi la puntata di oggi sarà condotta da antonio lengua antonio e di che cosa parleremo nello specifico oggi oggi faremo una vera e propria lezione operativa dove in un'ora vi racconto cosa sono i climax come si riconoscono sia climax daily che climax intraday perché si costruiscono queste figure particolari che producono dei movimenti rapidissimi contrarian dei mercati quindi possono portare dei dei degli utili importanti a riconoscerli e come si mettono le stop in che punto si entra con che velocità insomma tutto quello che potete sapere tratto dalla mia esperienza di studi ormai quasi ventennali sui volumi il climax è proprio il uno dei pattern più 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 rari e anche più potenti che ci sono sui mercati vedremo solo nel daily ma anche nell'intraday anche nell'intraday molto bene quindi sarà una puntata molto operativa operativa ci vediamo tra pochissimo grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille